Siamo collegati con la signora Cremia che... oh, dorme, oh, e vabbè, allora ce ne andiamo, benissimo. Ciao! Eh, che peccato, no? Eh, ciao, buonasera. Ti ho fatto uno scherzetto, io amo scherzare. Ma sì, io ameno. Perché la vita, in fondo, è bella, bisogna prenderla un po' sul divertente. Ma, d'altra parte, una come... Queste tragedie in giro... Ma quali? Non capisco. Cosa c'è? Matti! Cosa c'è? Matti, before sleeping, venta che la vedete. Se non glielo ricordo, non si lava mai i denti. Sì, questa cosa che parla metà inglese, metà stigiano coi figli è molto... Ma mi stupisco di lei. Per cosa? Un occhio al futuro, che è uno al passato. Ah, certo. Come dire, l'Europa e il Murazzano. Eh, certo. Che divertente. Benissimo. E' più divertente. E' molto divertente. Come stanno i suoi tre figli? Ricordiamo che ne ha tre, insomma, Matti e... Sì, Matti si lava i denti. Poi ci sono anche Ludo e... Nepal, Nepal. Nepal è il domestico che non è di colore, ma che per lei si colora. Ah, che bella. Ogni tanto, a mia capocchia, lo coloro. Oggi un po' ciao crema, metà da una parte che... Però non mi dispiace. No, è molto triste. Senti, Nepal, hai ritirato i bambini Ludo e Kami dalla tintoria. Un attimo, come dalla tintoria, scusi. Ciao Nepal, intanto ciao Nepal. E poi... Ciao Nepal. Non ha risposto comunque perché la tintoria, scusi? Ma, dunque, ieri, no, i bambini, Ludo e Kami, si chiamano Ludo e Kami? Sì, i suoi figli sono. Li ho portati in tintoria che dovevo andare a far lavare il Moncler, no? Sì, la vera, non diciamo. E non si sono incantati davanti... Cos'è quella roba lì che gira? La lavanderia. La centrifuga deve essere. Sì, la centrifuga, sì. Oh, ma divertente. Allora ho fatto che lasciarli lì, così si divertono un po'. Ma da ieri li hai lasciati in tintoria? Cosa c'è? Sta puzza sotto il naso, signora. E oggi mi viene fin la nausa, che sta puzza sotto il naso. Somatizza, somatizza la snuberia. Arrivederci, buonasera. Eccola lì.